All'agricento, al liceo Leonardo, il dottor Salvatore Baiamonte ha presentato il suo libro La dieta perfetta, pubblicato in Italia dalla casa editrice Hobby & Work, le interviste di Carmelo Lazzaro. Dal libro all'incontro diretto faccia a faccia con gli studenti, quanto è importante parlare di nutrizione, parlare di alimentazione con loro? E innanzitutto io desidero ringraziare il signor Preside e il professor Guido Pangucci per avermi dato la possibilità di presentare il libro agli studenti del liceo, che è lo stesso liceo dove mi sono diplomato anni fa. Io e il signor Preside abbiamo ritenuto importante dare un'educazione alimentare ai giovani, soprattutto agli studenti di primo e secondo anno, proprio perché un'educazione alimentare in questi anni può essere molto utile. Però il mio libro non è solamente utile per i primi due anni, ma è un libro, come ho detto poco fa agli studenti, che li accompagna quando saranno maggiorelli, quando saranno sposati e quando saranno nonni. Perché ho detto di credere al mio libro? Ora si parla del metodo dietetico del dottor Baiamonte, perché questo libro che è stato tradotto in Francia, da una casa editrice prestigiosa che pubblica per Pemi Nobel, è stata fondata per Pemi Nobel, oggi in Canada, in Amazon Canada, ha superato addirittura Paul Davis, che è un famoso scienziato e scrittore, che in Italia ha pubblicato da Montatori. Ebbene, il mio libro si trova al primo posto e lui all'ottavo posto, per quanto riguarda Amazon Canada. Insomma, il metodo Baiamonte sta avendo un consenso soprattutto internazionale. E quindi ora io questo metodo, questo metodo di metodologia scientifica che propone il mio metodo, lo propongo ai ragazzi con la speranza che li possa accompagnare per tutta la vita. Per cosa si distingue il metodo Baiamonte? Ecco, io nell'ugido faccio vedere ai ragazzi un faro. Ebbene, il metodo Baiamonte rispetto alla dieta zona, alla dieta low carb, è un metodo che dà una rotta, indica come tracciare una rotta, ma questa rotta non la seguono da solo, la seguono grazie all'alleato, anche al loro grande amico, soprattutto Angelo Custode, che è il metabolismo basale. La dieta perfetta esiste dal punto di vista di bilanciamento energetico. Cioè, il mio libro propone un bilanciamento ideale dal punto di vista energetico. È chiaro che non possono essere indicati gli alimenti perfetti per dare una possibilità di sopravvivere a lungo e mantenersi in forma. Io quello che consiglio è di girare tutti gli alimenti. Propongo solo nel metodo di attuare un bilanciamento dietetico ideale, o meglio ancora perfetto. Anche in Italia, oltre che in America, nei paesi anglosassoni, l'ombesità è diventata un problema per i giovani. E il libro che viene presentato oggi ai nostri alunni, si indica...